Credo che ci sia una mancanza di controlli da parte delle autorità, perché mai come quest'anno c'è stata un'esplosione di abusivismo e quindi di concorrenza sleale nei confronti del mondo della ristorazione in campagna e lungo le spiagge. Noi faremo una denuncia nei prossimi giorni, la presenteremo alle forze dell'ordine, alla Questura, alla Prefettura, elencando anche i locali, l'hanno diffuso sui giornali, dove si facevano cene, pranzi, DJ set, musica, vogliamo capire chi aveva l'autorizzazione e chi non l'aveva, chi aveva la licenza di pubblico spettacolo, perché nel mercato ci vogliono le regole, stesso mercato, stesse regole, ma le regole devono avere per tutti, quindi non è accettabile che abbiamo visto, abbiamo assistito, insomma, centinaia e centinaia di persone che affollano a prezzi per altri ingiustificati, vista anche la qualità dell'offerta, dell'accoglienza, che affollavano stabilimenti balneari, aziende agricole, insomma, è ora di fare la finita. Il mondo della ristorazione ha sofferto molto nel mese di luglio, ha sofferto molto nel mese di giugno, chiaramente adesso nel mese d'agosto c'è stata una ripresa, però anche qui andiamo a vedere cosa consuma la gente nei ristoranti, magari dividendosi una pizza, dividendosi un antipasto, quindi è una situazione di difficoltà alla quale bisogna rispondere con i controlli e con il rispetto delle regole, altrimenti diventa veramente una repubblica delle banane che abbiamo trasformato l'Italia in una repubblica delle banane.